Olmec sfrutta tutta la sua tecnologia e tutto il suo know-how nell'ambito dell'olodinamica, festeggia i suoi 40 anni, un compleanno fatto di grandi successi e abbiamo messo a frutto tutta la nostra esperienza migliorando i nostri sollevatori e creando una nuova linea di prodotti molto efficienti ad altissime prestazioni che consentono a parità di sollevamento, pesi e dimensioni molto compatti per un facile utilizzo sia in officina che in caso di assistenza outdoor. Presentiamo qua in fiera una nuova linea completa di stallonatori idraulici per tutti i tipi di ruote sia che siano esse agricole, mezzi pesanti, trattori, cave o quant'altro molto leggeri, prodotti molto compatibili con qualsiasi tipo di gomma e tantissime ed elevatissime forze di stallonamento. La gamma è completa in tutti i suoi prodotti. Presentiamo inoltre la nuova serie di sollevatori Dynamic Line dotati di una nuova tecnologia tutta completamente made in Italy è un sistema ad altissime prestazioni che consente velocità di rotazione elevate e velocità del cilindro molto molto elevate rispetto alla precedenza. Nuovo sistema di illuminazione che può essere dotato e disponibile su tutti i nostri sollevatori. Abbiamo inoltre una gamma completa di sollevatori pneumatici che è praticamente compatibile con tutti i tipi di veicoli leggeri siano esse auto, furgoni leggeri o piccoli caravani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS